Ciao a tutti e benvenuti al trentesimo episodio del pagellone da 0 a 10. Oggi andremo ad analizzare la trentesima giornata di Serie A. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di lasciare mi piace al video, di iscrivervi al canale e di passare nei link in descrizione che come in tutti i video vi porta alla nostra pagina Instagram. Detto questo iniziamo subito. Voto 0 al Crotone, Crotone che perde 3 a 2 con lo Spezia, Crotone che perde in modo clamoroso visto come si era messa la partita, Crotone era avanti fino all'ottantanovesimo per 2 a 1, poi solita amnesia difensiva del Crotone che l'hanno contraddistinto in tutta la stagione, prende due gol anche abbastanza evitabili perché comunque su due errori di marcatura in area di rigore ed è un Crotone che perde una partita importantissima, perde tanto dal punto di vista del morale e questa sconfitta molto probabilmente sarà il vero colpo basso che porterà il Crotone alla retrocessione, si trova molto lontano dal quarto ultimo posto e soprattutto si trova in una condizione di morale in cui spesso è riuscito a giocare bene soprattutto con l'arrivo di Cosmi ma porterà a casa pochi punti. Diciamo che forse anche una pecca è stata oltre che sul mercato come ribadito in più video perché non è stata creata una squadra adeguata al campionato di Serie A, anche forse l'esonero troppo tardivo di stroke up perché comunque con Cosmi il Crotone ha dimostrato di saper giocare bene, ha dimostrato i soliti problemi in fase difensiva, subisce prende tantissimi gol ma comunque ha sempre giocato bene in qualunque partita affrontato, vedi il Napoli, vedi lo Spezia ma una rosa troppo inferiore rispetto alle altre, di Serie A. Voto 1 all'Udinese, Udinese che perde 1-0 col Torino, Udinese che non gioca neanche così male ma è una sconfitta che porta al ritiro della squadra friuliana, quindi Udinese che si trova abbastanza tranquilla della classifica, non così tanto perché comunque come sappiamo verso la fine del campionato le squadre che sono un po' più in lotta pesantemente come il Cagliari, come il Torino faranno punti, saranno punti importanti per cercare di raggiungere le altre squadre e l'Udinese fa parte di questo gruppone che può ancora rischiare di retrocedere. Udinese che comunque la prestazione c'è stata, ha preso gol su un unico tiro in porta del Torino, ha preso gol su un errore individuale di Arsalan che ha concesso un calcio di rigore. Udinese che ce lo può fare a salvarsi visto la qualità della rosa, manca sempre la qualità degli attaccanti perché prima con Lasagna, adesso con Llorente e l'Udinese segna sempre molto poco. Voto 2 al Parma, Parma che perde 3 a 1 contro il Milan, voto 2 alla sconfitta nel modo in cui è venuto perché il Parma a un certo punto si è ritrovato in superiorità numerica data l'espulsione di Ibrahimovic. Un Parma che è riuscito a segnare il primo gol, poi tra sfortuna e incapacità di fare un altro gol il Parma non è riuscito a portare a casa almeno un punto che sarebbe stato molto importante per cercare di uscire anche lei, come il Crotone e come il Cagliari dalla zona retrocessione. Un Parma che dimostra ancora i soliti problemi, un Gervinio che in questa stagione non c'è mai stato, ma secondo il mio parere il Parma è meglio che retrocedi per come è stata creata la rosa perché è una rosa molto giovane, mandare via i giocatori più esperti e ripartire dai soldi spesi dal nuovo presidente che ha cercato di puntare tantissimo sui giovani e secondo me un anno di cadetteria non farebbe così male né al Parma né alla crescita appunto dei giovani da valorizzare poi in un possibile ritorno in Serie A. Voto 3 alla Samp. Samp che si dimostra la solita squadra discontinua, perde 2-0 col Napoli, non ha rischiato di prendere l'imbarcata e non meritava forse un risultato così ampio perché comunque ha fatto un gol poi annullato giustamente, ma ha fatto anche una buona partita come al solito, una Samp che ormai ha la sua caratteristica di giocare che è quello di fare delle partite molto chiuse e ripartire in contropiede con i giocatori e in questa partita però non è bastato, il Napoli ha vinto 2-0 ed è una Samp che comunque è a metà classifica molto tranquilla. Vedremo come concluderà la stagione e vedremo soprattutto visto le voci che girano intorno alla società, se Ranieri sarà confermato anche per la prossima stagione oppure la Sampdoria proverà a fare un colpo nuovo in panchina per cercare di raggiungere obiettivi un po' più di prestigio. Voto 4 al Genoa, Genoa che perde 3-1 con la Juve, Genoa che perde per tanti errori individuali soprattutto nel primo tempo, vede il gol di Morata ma è un Genoa che comunque è un po' come la Sampdoria però con situazioni diverse perché il Genoa quando è arrivato Ballardini ha iniziato a correre, è riuscito ad uscire molto bene dalla zona retrocessione e a stabilirsi in una posizione molto tranquilla di classifica in questo momento, diciamo che è una delle squadre che può lottare per stare nella parte sinistra della classifica. È un Genoa che dimostra di essere una rosa composta bene, in questa stagione partita c'è stato anche l'errore di Ballardini di effettuare i cambi troppo presto, ha concluso la gara in 10, cosa che poi ha portato anche al 3-1 della Juve di McKennie. Un Genoa che vedremo soprattutto in queste partite come si inizierà ad abituare anche alla stagione del prossimo anno che potrebbe essere importante con la conferma di Ballardini e soprattutto sul mercato che se si lavora come hanno fatto a gennaio si può costruire veramente una buona squadra. Voto 5 al Cagliari, Cagliari che perde 1-0 con l'Inter, Cagliari che aveva bisogno in modo incredibile di tre punti, in modo importantissimo, giocava contro un avversario difficile, forse la più difficile da affrontare in questo momento che è l'Inter, Cagliari che non gioca male però fa fatica a difendersi soprattutto nel secondo tempo dove l'Inter ha accelerato, Cagliari che alla fine rischia anche di segnare il gol del pareggio. Queste non sono le partite a vincere del Cagliari, dovrà vincere tutte le prossime o almeno una buona parte per cercare di riuscirsi a salvare, soprattutto perché una retrocessione in casa Cagliari sarebbe molto pesante dal punto di vista della perdita di molti giocatori che ovviamente non accetteranno di fare il campionato in Serie B. Voto 6 all'Inter, Inter che fa il minimo sforzo, vince 1-0 col Cagliari, Inter che diciamo ha dominato soprattutto per il secondo tempo, qua alla fine come spesso accade nelle partite ha rischiato di prendere il gol del pareggio, Inter che ormai ha dimostrato la propria solidità difensiva, subisce pochissimo e soprattutto oltre a subire pochissimo segna quel giusto che quel poco che basta, qua ha fatto una grande azione per esempio sull'assa Kimi-Lukaku e poi ha messo il pallone Darmian in porta, ma è un Inter che ormai da parecchie giornate si è incredibilmente messo nell'idea di Antonio Conte, gioca come vuole Conte, subisce poco, solidità difensiva al massimo e soprattutto le partite le governa, fa correre gli avversari, la palla gira molto bene, è un Inter che in stile molto europeo riesce a portare a casa altri tre punti che continuano ad allungarla su più 11 dalla seconda in classifica e continuano a portarla sempre più vicino a questo scudetto. Voto setta la Juve, Juve che vince 3-1 col Geno, Juve che fa la Juve, Juve che vince meritatamente in una partita in cui il Geno ha sbagliato molti errori individuali, una Juve in approfittato con il primo gol di Morata, poi alla fine col gol di McKennie, ma Juve che oltre a un grandissimo primo tempo dove non ha sbagliato quasi niente, però col secondo tempo è ritornata la Juve che molte volte in questa stagione si è vista, rischia a un certo punto di prendere anche il pareggio col tiro di piazza, una Juve che deve cercare di essere più continuo anche in questa fine di stagione perché il posto in Champions non è assicurato, soprattutto perché ci sono molte squadre che possono cercare di ottenere quel piazzamento europeo che vale molto. Voto otto al Milan, il Milan che vince 3-1 col Parma, Milan che fa una prestazione importante, fin quando erano 11 contro 11 il Milan ha dominato la gara, poi con l'espulsione di Ibrahimovic molto contestata sia dai tifosi milanisti sia da un po' tutto il mondo del calcio, il Milan fatica ma poi con grande grinta riesce comunque a chiudere una partita che si era rivelata molto insidiosa per come si è svolta. Milan che porta a casa tre punti importantissimi, tiene il passo delle altre squadre che in questa giornata hanno tutte vinto le squadre davanti, vedremo se riusciranno ad arrivare in un posto in Champions League che oltre a essere importante dal punto di vista economico può essere importante anche dal punto di vista dei rinnovi dei vari calciatori che il Milan è in atto, vedi Donnarumma, vedi Cialanoglu, vedi Ibrahimovic, quindi un Milan che oltre al piazzamento europeo per l'importanza che il Milan come squadra e per l'economia della squadra visto che comunque andare in Champions porta diversi milioni in cassa, andare in Champions in questo caso sarebbe anche un valore in più per cercare di convincere i giocatori un po' più resti a rinnovare Voto 9 a Napoli, Napoli che vince 2-0 con la Samp, Napoli che vince in modo molto sicuro, non subisce gol è una cosa importante, è un Napoli che attacca bene, Osimene sembra essere tornato un calciatore a livelli molto accettabili, è un Napoli che dimostra che può riuscire ad arrivare a un posto in Champions in questo momento è molto difficile perché ci sono squadre che lottano, c'è il Milan, c'è la Roma che è un po' più distaccata c'è la Lazio che con la partita da recuperare potrebbe inserirsi, Napoli, la Juve quindi diciamo ci sono molte squadre per soli tre posti considerando che l'Inter molto probabilmente vincerà lo Scudetti che conseguentemente si qualificherà in Champions League un Napoli che porta a casa tre punti importantissimi, convince al contrario della partita col Crotone e potrebbe essere una partita che vale molto soprattutto come già detto ai fini della classifica Voto 10 allo Spezia, Spezia che fa un'impresa, vince tra due col Crotone un'impresa non per la caratura della partita perché comunque era contro un avversario dello pari livello se non inferiore, ma è uno Spezia che vince in modo molto importante dal punto di vista del morale perché è una vittoria in questi modi sappiamo tutti quanti benefici può portare dal punto di vista del morale ma vince anche una partita importantissima dal punto di vista della classifica questa vittoria si allontana dal Cagliari terz'ultimo, fa un grosso passo verso la salvezza diciamo che in questo momento lo Spezia è la squadra che è in più in forma delle tre appunto neopromosse perché ha superato il Benevento e ha dimostrato di essere una squadra che non cambia mai il modo di giocare, ha sempre giocato bene in questa stagione la salvezza è più che meritata ma c'è ancora da lottare per ancora parecchie partite in cui il campionato è ancora molto riaperto. Detto questo se il video vi è piaciuto io vi consiglio di lasciare un piacere al video, di iscrivervi al canale e di passarne i link in descrizione. Noi ci rivediamo col pagellone della 31esima giornata giornata che anticiperà quella del turno infrasettimanale. Ciao a tutti Ciao a tutti